ma ora ora chi sa? maureta capo testa a capo finto questo è l'evento del maestrale è quella in fondo è la la corsica ecco qua dove sei dove sei ripetilo dai per i nostri ascoltatori in diretta viro a proposito ascoltatori maschile femminile come si dice ascoltatrici no ascoltatori e ascolta mucche mucche bravissima le sa tutte bene orietta dove ti trovi ripetilo per i nostri amici in diretta aspetta che casco giù dal massimo si ripetilo tu perché già non mi ricordo più capo 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 guardami che ti sto suggerendo capo testa capo testa capo testa brava capo il mio dito è di proposito stavolta capo aspetta testa ecco qua capo testa il farro di capo testa le nostre qui di fronte meraviglioso descrivi un po questo posto veramente magico quello il faro vecchio non ti lanciare in congettura si guarda si vabbè fanno vedere gira giornata molto ventosa oggi abbastanza maestrale però guarda che posto meraviglioso favoloso dai descrivi queste rocce scolpite dagli agenti atmosferici già fatto già visto prima già visto prima si 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 arriva i più valorosi si possono arrampicare arrivare lì sopra si guarda io lo farei dai allora io adesso io resto qui tu fai tutto il giro e quando sei da sopra mi saluti con la manina va bene d'accordo io direi che a questo punto cari ascoltatori e care ascolta chiudere qui in bellezza ripresa pessima contro luce siamo contro luce pessima tecnica qualche potente buonanotte ciao a dopo come dicono qui in francia come dicono in francia dicono ci vediamo dopo ovvero a frappi a frappi le sa tutte le imparate tutte le imparate tutto